Bella raga, finisce la prima partita di Champions, Real Sociedad-Inter 1-1 e senza tanti giri di parole ci è andata veramente di culo perché abbiamo fatto cagare, così mettiamo subito i puntini sulla I, mettiamo subito le cose in chiaro su come sono andate queste partite, ci può stare per carità dopo la grande vittoria nel derby, poi conoscendo l'Inter è un classico che noi dopo una grande vittoria facciamo una grande cagata, quindi voglio dire qui ci siamo anche salvati perché meritavamo la sconfitta, invece voglio dire è finita 1-1. Che dire, un approccio di merda con Barella che sbracciava, Bastoni che faceva gli slalom e sassacchettava, abbiamo visto di tutto di più nel primo tempo, Arnautovic non stava in piedi, Lautaro non stava in piedi, centrocampo Moscio, Aslani ha preso una munizione subito un po' da pirla e si è anche un po' compromesso la partita, nel primo tempo non siamo esistiti e doveva stare almeno 2-3 a 0 per la Real Sociedad che noi non abbiamo mai avuto occasioni, nel secondo tempo, idem, i primi 15 minuti del secondo tempo, anche i primi 20 sono stati tutti sempre della Real Sociedad, poi piano piano, giustamente la Real Sociedad a meno che non si fa le bombe è calata, a quel punto i nostri cambi hanno migliorato un po' la formazione, Fratesi ha dato un po' di potenza al centrocampo, Turam è un'altra cosa rispetto ad Arnautovic e su questo più avanti nel corso della stagione se non ci saranno le versioni di tendenza toccherà parlarne perché potrebbe venire fuori il problema delle punte alla lunga, perché se Arnautovic è quello che abbiamo visto oggi c'è da aver paura. e niente, piano piano l'abbiamo rimesso in piedi negli ultimi minuti, grazie al loro calo, noi qualcosina abbiamo creato, un gol annullato per fuorigioco, c'è andata grassa che il VAR ha tolto l'espulsione di Barella che non c'era, se no eravamo fottuti e quindi ci dobbiamo prendere questo punto e dire tante grazie al culo che ci ha assistito perché è andata esattamente in questo modo e che ci sia anche da lezione che non esistono squadre con le quali noi possiamo cazzeggiare, men che meno una squadra che è arrivata terza nella Liga l'anno scorso e in Champions quest'anno, no? se tu ci cazzeggi quelli ti possono rompere il culo, stavolta ci è andata bene, se rifacciamo così un'altra volta ce lo rompono, no? quindi bisogna entrare più duri, più cazzuti peccato perché io ero anche d'accordo con Inzaghi nei cambi che aveva fatto, era giusto dare fiducia ad Aslani, se no se non gli dai mai fiducia non vedi mai se il melone è buono o no Pavard, ottima partita, su Pavard non si discute ragazzi, sarà il titolare, verrà fuori che Pavard è una certezza e Darmian potrà fare il cambio con Dunfris e con Pavard spesso e volentieri anche perché Darmian è il posto a Dunfris e glielo frega, piano piano vedrete poi che dire, sui singoli ragazzi c'è poco da dire oggi San Lautaro alla fine, nonostante una partitaccia di merda, è un campione è riuscito a tirare fuori il coniglio dal cilindro su una ciabattata di frattesi che l'aveva presa male e quindi dai, alla fine, cosa posso dirvi? Scappato pericolo perché partire con zero punti non era un gran partire in questo girone è che tutti dicono facile facile, facile non c'è un cazzo perché il Benfica è una squadra forte, l'anno scorso sappiamo il livello che ha il Benfica è che abbiamo passato il turno perché abbiamo fatto una gara d'andata sopra le righe se no il 2-0 all'andata non so neanche se era meritato al 100% ma sicuramente abbiamo fatto una gara compatta ma il Benfica è uno squadrone, bisogna affrontarlo con serietà il Real Sociedad abbiamo visto di che pasta è fatta quindi il Salisburgo io non ci scherzerei tanto bisogna giocare tutto e concentrate se si vuole sfangare in questo girone oggi abbiamo avuto la riprova e oggi che ci serve da lezione e adesso belli decisi andare a giocarsi la partita con l'Empoli e cercare un po' di ricaricare le energie e speriamo di recuperare la svetta Cialanoglu che oggi c'è mancato come l'acqua nel deserto quindi buona così ragazzi teniamoci il punticino e bella raga per me c'è solo l'Inter e speriamo di recuperare la svetta Cialanoglu